Siamo molto contenti, sicuramente siamo tolti una grossa scimmia sulle spalle. Sicuramente si è fatto bene queste ultime due settimane, sono state veramente dure e pesanti perché stare dentro non solo per il lavoro in palestra duro e tosto ma anche per l'ansia e la pressione che tutto è venuto fuori dalla partita di Cagliari giustamente e sicuramente non abbiamo reagito in una maniera migliore. Perché ce li siamo letti in faccia, in allenamento, durante le riunioni, ci siamo letti cosa non andava, cosa andava, cosa era da migliorare e ci sono stati dei confronti anche per carità accesi come giusto che sia però comunque tra persone intelligenti. E quindi siamo riusciti a fare meglio e a portare a casa una bella partita anche se ovviamente c'è molto da migliorare soprattutto in difesa anche personalmente. Nel senso, esso penso che ha fatto una partita migliore partita di campionato e quindi nel senso anche personalmente mi sento di dover dare qualcosa in più. Però obiettivamente dando questa energia e giocando insieme come abbiamo fatto non solo con le rate percentuali ma giocando insieme proprio dando la palla dentro comunque giocare secondo le proprie caratteristiche aiuta e infatti si è visto. Cos'è cambiato in tre giorni da un Vildera sufficientemente negativo che abbiamo visto a tre video? Un Vildera sotto tono, per come lo conosciamo ci piace molto di più il Vildera di stasera che va in doppia-doppia, prendi 10 rimbalzi, segna 13 punti, con la personalità che noi conosciamo di lui. Sì, sicuramente in trasferta i falli sicuramente mi aiutano in trasferta perché c'è poco da raccontarci, nel senso io devo essere maturo e giocare lo stesso, nel senso che alla fine so che Marco dà una grande mano però so che alla fine il mio apporto è importante e quindi devo essere abbastanza maturo, devo saperlo che in trasferta succede così e quindi difendere il tosto, difendere il duro però darà il mio apporto. Purtroppo col fatto che comunque anche dopo Cagliari è stata dura un po' per tutti e a Treviglio non è andata bene, sicuramente però questa strada di oggi è la strada giusta. Cercando di giocare in cina come ho fatto oggi riusciremo veramente a fare un bel campionato. Quanta fiducia vi dà a partire oggi in vista dell'asferta che è difficile? Sì, beh sicuramente penso che ci dia veramente tantissima fiducia, ma più che fiducia proprio ci libera di un peso secondo me, non che abbiamo risolto il nostro compito, anzi non abbiamo fatto niente, però penso che con oggi abbiamo dimostrato che abbiamo tante frecce al nostro arco e giocando in questa maniera qua possiamo vincere tante partite non solo con Ibax che fa 40 o Tarne che fa 27-12, però giocando in una maniera di squadra e difendendo chi di squadra possiamo riuscire a portare a casa tante partite. Un'altra domanda per Giovanni? Possiamo liberare? Sì, grazie.